E adesso vorrei chiamare un regista, Giovanni Soldati. Giovanni Soldati premierà la trezzeria Rancati. Angelo Sormani. Pensate che hanno realizzato veramente dei momenti importanti al cinema, addirittura, vi ricordate, la corazza indossata a Cinocerri in Ettore Fianamosca, le lavarde pesante, gli sconti per Ludwig, ma ci sono anche uomini d'epoca, tanti altri... C'è Sormani? Eccolo carini. Angelo Sormani. La trezzeria Rancati. Un grande nome nel cinema italiano. Un applauso per Sormani. Giovanni Soldati, vi consiglio questo premio. Soldati, vi ricordate qualche cosa? Padre, titolo Mondo Antico. Altri tempi? Io sono molto emozionato perché il nome Rancati del cinema vuol dire qualcosa, quindi... 60 e complimenti. Vero. Cosa stiamo facendo in questo momento? Adesso l'Odissea, che è un altro film adesso, titolo non lo fa adesso, l'Ammoletto che ha fatto, Benoit, italiani, niente. L'abbiamo fatto... Ma l'Ammoletto che ritorna, ritorna all'Italia. Sì, da poco. Sì, da poco. Noi ce lo auguriamo. Tutti inglesi, soldati. Viene come va? Sono andato in Irlanda un anno. Cosa fa? Ho fatto una miniserie di quattro film con Claudia Cardinale, che spero presto, lei uno smetterà, che si chiama Mia per sempre. Bene, abbiamo detto anche... Devo rimitare un'altra volta queste parti, lo abbiamo troppo per l'estero. Ma sapete perché? Perché voi vi arretrate sempre. Noi devono stare qui davanti. Giovanni Soldati, Angelo Sornano. Grazie.